che cosa? negozio diamanti pandè te gusta? io non me la ricordo, non me la ricordo nessuna missione ma dai in due minuti la facciamo entriamo? pianifico? ma che cosa vuoi pianificare? tua sorella pianificiamo? iniziamo quando andiamo dalla sorella di peppe qua in afghanistan la sorella di peppe è quella che ci posso fare io mi faccio una passeggiatina qui avanti vediamo qua dietro entriamo direttamente niente telecamere vabbè mebbia se vuoi andare direttamente su non c'è problema vado vai io apro questa porta tanto ci mettiamo un minuto vai vai tranquillo guarda io mi sto scassinando la serratura quando vuoi io ci metto 20 secondi se dovesse servirti invece di ucciderli con con la pistola uccidili col calcio così è sicuro che non fanno rumore punto di domanda sì ma sta venendo verso di voi tutti dentro tutti dentro ma così così io la leggo anche qua ragazzi facciamo le guardie ma sprechiamo fascette per niente c'è una guardia sopra che sta scendendo la tizia che è nel suo fiscio sì mi aveva visto è vero è la tizia no è la guardia però purtroppo ha dei problemi logistici però adesso sta salendo il suo amico probabilmente non sale non sale non sale nessuno io la tizia sta arrivando però link potresti prendere tu questo qui che hai due sacchi ma certo grazie fate la tizia è qua è qua la metto giù a terra vai nebbia aspetta un secondo vai vuoi prendere la scheda la proviamo a prendere insieme dai dimmi a che secondo dai 3 2 1 vai no l'hai presa a te basta vabbè tieni regalino no dov'è che che si disattivano le vetrine eh eh adesso la disattivo io si si disattivo io sono qua vabbè blinker io aspetto che arrivino le guardie al massimo mi passo un po' di tempo disattivate se volete possiamo anche quello ci avete un giornale no guarda sinceramente guarda sta salendo la guardia se voi ci teniamo la guardia a farmi compagnia vai 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 nebbia uccidilo col calcio se puoi così oh no non fa rumore così ma neanche io faccio rumore fida no col silenziatore a volte fa rumore purtroppo siamo fraaa aspetta entra dentro entra dentro peppe non cantare per piacere mamma mia peppe ma che canzone è siamo fragili ma tutti ci spot nebbia vai nebbia è tua che di te appena nebbia finisce di rispondere io entrerei qua ma io vengo a farmi compagnia entriamo entriamo quante guardie ci sono? una ma si ma si nebbia quando vuoi mi dici io inizio 10 secondi mi servono ci sono due civili qui fuori aspettate aspettate eh pande quelli sono tuoi ma perchè sei? ma perchè sei? io sto salendo da nebbian ok aspetta aspetta stanno andando nel vicolo stanno andando nel vicolo aspettate un minuto un minuto ma scusa eh ma aspettiamo un'altra guardia perchè ci servono di è arrivata è arrivata è arrivata è arrivata è arrivata vieni 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 si sa veloce sto aprendo rispondo rispondi tu? si si panda entra e metti giù tutti, veloce veloce vai 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 ragazzi tanti punti rossi vai tranquillo uno due allora aspetta io leggo quelli che rimangono e poi li mettiamo dietro ok? rompete tutto allora tu sei legata vai tu sei legata si quanti ne ho vabbè ragazzi abbiamo finito prendiamo tutto nel furgone aspetta spostagli ostaggi ma lasciali la panda lasciali la ma no scusa facciamo le cose per bene ma no lasciali la fidati guarda pandazio 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 vabbè fottiti ma mi stai disturbaziando tu e peppe che avete i trapani super trapani e anche tu ce l'hai e anche tu ce l'hai lo so il suo è più silenzioso ma anche il tuo va veloce eh esatto eh ho capito ma lui è la più grande c'è qualche cosa su? vado a fare subito si c'è nell'ufficio della anche l'hamborgotti chi è che va a l'hamborgotti? eh un attimo un attimo vai caldo nebbia 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 questa missione qua dai quattro minuti sono già troppi effettivamente ci abbiamo messo a cyber di standard in effetti si quindi dai veloce ma vi ricordate che nell'ufficio quello sotto c'era c'era trapano da posizionare? eh c'è sul coso c'è alla l'hamborgotti c'è eh alla l'hamborgotti ma state seduta troia di merda ricordati che c'è anche il coso se non sbaglio di solito c'è il tizio della l'hamborgotti si vabbè ma fa si vabbè aspetta aspetta io sto prendendo le vetrine sennò nebbia hai messo al trapano? eh? ne hai messo al trapano? qualcuno l'ha visto fuori credo vai si ma secondo me non si devono fare più domande oh oh ce la fai? si si lo sto mettendo a terra ce ne sono troppi si troppi punti di domanda quello della l'hamborgotti chiama subito eh ecco la l'hamborgotti c'è bloccato però c'è un tizio che mi sta dai dai su tutti a terra dai ma poche casini su è tutto a posto non è a posto? pulo dai vieni qua dai è una stupidata dai via così danny dopo dimmi un attimino stiamo finendo una missioncina al volo un attimo tanto ok scusate un minuto tranquillo facciamo stare la pilota e via che si dice danny? come va il lavoro? come va l'influenza? eh domani vado al lavoro l'influenza va sempre la stessa sembra che a quanto pare mi... ma per chi è che ha messo il borsone qua? mi era rimasto in mano il borsone tanto poi così no non c'è ragazzi 5 minuti e 41 vabbè chi è che comincia a cercare i... ma i trapani come sono messi? eh sono tutti e due funzionanti e chi è che comincia a cercare i pacchetti? oh chi è che comincia a cercare i pacchetti? ce ne mancano 7 veloci dai eh prima fatevi un giro in gioielleria se qualcuno ha scordato qualche cosa io ho preso un pacchetto ok appena fatto qua sopra c'era qualcosa per sbaglio è un pacchetto vai io butto un attimo tutte le cose non l'avete preso peppe i tuoi trapani si lo so sto a controllare molto in velocità io butto i borsoni tanto di solito si riempiono da soli i trapani cinesi i trapani cinesi brinca lanciali in mezzo alla strada pande riperti da soli i miei trapani lanciali più in fondo pande che c'ho i trapani della black and dagger si si della black and china ce li hai dai dai guarda qua è una stupidata sta missione dai chi è che li lancia qua così vicino e pande vero? oh che vuoi non so lanciare non quel cazzo oh oh punto di domanda oh punto di domanda vai giù a terra vai giù a terra finocchio vai a terra io c'ho ancora una fascetta vai ce l'avevo anch'io io ne ho ancora 3 io ne ho ancora 3 perfetto quanto è bello fare sta missione proprio così liscia liscia come l'ole aspetta io già che ci sono apro un paio di banco guarda che siamo oltre gli stani io c'ho due gemmer io c'ho due gemmer c'è un puntino no no manda blu ehi dov'è? là punto al rosso vabbè tranquillo se qualcuno gli mette le fascette siamo a posto basta io ce l'ho io ce l'ho ce n'è un altro qui rispettate che metto a terra anche questo vai a terra finocchio vai a terra veloce bravo ciao qualcuno gli mette le fascette tipo ma qualcuno incomincia a vedere per i pacchetti vai 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 io l'ho trovato uno già abbiamo preso quasi tutto sai che bello mancano mancano eh perché le fai con noi peppe perché sennò intanto ho trovato 7.507 in una cassetta uh ho appena preso due borsone tipo dentro ragazzi c'è un piccolo problema cosa? non c'è più spazio per sedersi ma dai ma sì io non vorrei dirvelo però non c'è più spazio per sederci vediamo cosa c'è in questo in questa cassafartina dai soldi soldi dai sono arrivati i soldi della partner ragazzi gigi potevo risparmiare un trapano allora ma tanto non lo consumi peppe non vorrei dirtelo però vabbè è il trapano dell'IKEA qui c'è una ragazza ferma che non si è accorta di un cazzo di niente alla fermata dell'autobus prendiamoli e basta e se non se ne è accorto fino ad adesso è perché devi andare a rompergli le balle ma che problemi ci sono per una rapina ma i bancomat li avete fatti tutti li butto a terra questi se qualcuno vuole venire a me non c'è problema vengo io io non ho più fascette ce ne ho io due ma al massimo li teniamo giù non è un problema vabbè infatti sai che sei una merda perché peppa va bene il prossimo se lo trovo ti dico peppe vieni a prenderlo così sei contento bimbo peppe vieni che sto siamo agili se volete trovare questi tre pacchetti che sono rimasti due oh dai due ma dove cazzo li trovi io? un altro punto di domanda se volete legarlo ah è quella ragazza di prima che dice terra non fare domanda sei fastidioso ma senti io non ho più fascette se volete fatela fuori ma no tienla a terra piuttosto lasciala la degli di fare quello che ci si mette per terra al massimo se la sorella di peppe non può facciamo vabbè esatto chiamiamo quello allora non c'è nulla ma io sono una donna ehiiii senti nebbia che bella vocina che ha Stay still, stay down, don't move, oh, ti servono delle fascette, non ne ho più, eh l'abbiamo finita ragazzi, no, ma questi due pacchetti, guardiamo sotto le macchine, abbiamo messo 10 minuti, è tanto, Eh ma la cosa più problematica tra virgolette sono i pacchetti, perché la rapina dopo 6 minuti e mezzo eravamo a posto, ma sì non possiamo anche andare via, tanto no, vabbè ma parla full, full, stealth, stealth, ma sì, ma sì, ma è già full, stealth, non lo facciamo, non lo facciamo full, full, stealth, stealth, mi chiamino, mi chiede per fulo che se no vengo lì e vi prendo a, ma si è il panda che ti infilava la minchia in bocca ma senti questi ma di cosa... io non lo so ma Peppe c'ha sempre sti discorsi se Peppe ti ne è sempre la minchia in bocca vai meno uno per me gli piace avevi detto che mi chiamavi sei un bastardo oddio ma ci aveva creduto davvero se vabbè bimbo minchia non dello staff ma io non ci credevo va bene se troviamo dai il prossimo che troviamo lo chiamiamo Peppe Peppe vieni a prenderlo davvero l'hai trovato? te lo giuro ma figura ti li ho trovati tutti io quasi ne ho trovato un paio neri io ne ho trovato uno di nuovo lì era io ne ho trovato uno già lì non ce n'ho andato vai vabbè ti aspetto nel furgone ciao 11 minuti ma che palle quanto ci dà? fate schifo 2 milioni e mezzo a me mi dà 1 milione e 9 1 milione e 9 2 milioni e mezzo di payday ma vabbè e vabbè i soldi della partner l'amantità religiosa mi ha sbloccato oh pande se a te guadagni così è buono per te vabbè le ricompense sono state aggiunte al tuo inventario a posto c'è proprio non c'è hai trovato dei pacchetti per gage no questa è in effetti questa è in effetti non c'è più divertimento a farla esattamente mi provo però alla fine l'abbiamo fatta una volta sola no di più no no io l'ho fatta ah no è vero l'ho fatta fare una volta a buon a tutti quelli di 100 una maschera maschera brutta come al solito compensatore da competizione fa vedere che maschera è vabbè raga ce ne facciamo un'altra ma non lo so